Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. L'anticiclone che ha caratterizzato il tempo di questi ultimi giorni, quindi con stabilità del tempo e cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, si è via via indebolito. Infatti se vediamo la grafica l'anticiclone si è proprio ritirato sulle azzorre e ha favorito l'ingresso di aria più fresca con delle nuvole che ci hanno interessato anche nella giornata odierna. Ho indicato proprio nelle ore centrali della giornata di domani il transito di una nuova perturbazione seppur veramente molto molto debole che caratterizzerà proprio la giornata di domani domenica dove al primissimo mattino localmente avremo anche delle deboli piovigine e del nevischio oltre i mille metri di altitudine. Poi nel corso della giornata avremo un graduale miglioramento del tempo perché questa perturbazione, vedete, si sposterà poi in direzione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Cosa accadrà la settimana prossima? Ecco, ho indicato un tempo prettamente instabile, ovvero arriverà una perturbazione nella giornata di martedì, ad oggi sembrerebbe di moderata intensità. Infatti questa bassa pressione fra le isole britanniche e la Francia porterà un peggioramento del tempo proprio nel corso della giornata di martedì con delle precipitazioni piovose fin verso gli 800-900 metri mentre dovrebbero arrivare delle nevicate di moderata intensità nella giornata di martedì intorno ai mille-1200 metri di altitudine. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica dove, come vi anticipavo in precedenza, al mattino avremo delle locali piovigini su parte del nostro territorio, in special modo la zona dell'alta Val Seriana e della zona Val di Scalve e localmente anche nella zona della Val Camonica con delle debolissime nevicate, intendo dire proprio un velo di neve oltre i mille-1200 metri di altitudine, ma decisamente in graduale miglioramento nel corso del pomeriggio dove saranno le nubi alternate a schiarite a caratterizzare il tempo sul nostro territorio con temperature abbastanza fredde con uno zero termico intorno ai 1400 metri di altitudine, quindi una giornata prettamente invernale al mattino, ripeto, qualche occasionale fiocco di neve si potrebbe vedere sulle nostre montagne orobiche. Evoluzione del tempo invece per la settimana è indicato un lunedì con nubi alternate a schiarite, quindi una certa variabilità con temperature comprese fra meno un grado di minima e 8 gradi di massima sull'altopiano di Clusone, uno zero termico intorno ai 1700 metri di altitudine, ma in serata arriva il peggioramento che poi si concretizzerà proprio nella giornata di martedì con delle piogge, è indicato questo peggioramento, piogge di debole, moderata intensità e delle nevicate intorno ai 1000-1200 metri, prevediamo degli accumuli nevosi intorno ai 10 centimetri a 1000 metri e intorno ai 10-15 centimetri oltre 1200 metri di altitudine. Ecco poi nel corso della giornata di mercoledì avremo un graduale miglioramento del tempo, farà abbastanza freddo comunque con temperature nella media del periodo comprese fra meno un grado di minima e 10 gradi di massima con uno zero termico che si porterà intorno ai 1900 metri di altitudine. Giovedì e venerdì poco significativo il tempo, diciamo che saremmo caratterizzati da cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, non sono previste delle perturbazioni diciamo nella giornata di giovedì e venerdì con uno zero termico che si porterà intorno ai 2000-2300 metri di altitudine con inversioni termiche, quindi più freddo nelle zone diciamo più basse, quindi diciamo sull'alto piano di Clusone le minime si porteranno intorno agli zero gradi, ecco indicato poi venerdì un calo delle temperature potrebbe entrare dall'aria fredda diciamo dalla porta della Bora a decidere diciamo il tempo per il prossimo weekend che potrebbe essere caratterizzato dal clima un pochino più freddo e per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.